5 minuti per noi è stato il grande baritono del mondo per tanti anni allora tu ci sei trovato in una fortunatissima circostanza perché hai avuto l'odore di cantare per la regina per il giubileo della regina Elisabetta poi la regina è scomparsa e sei stato il primo a cantare per Carlo Terzo e per Camilla ma che tipi sono Carlo e Camilla? tu che li hai visti da vicino? adesso tu sai meglio di me che per dare dei giudizi su qualcuno non basta una vita intera io l'ho incontrati più di una volta ma molto fugacemente sono stati incontri molto formali, molto cordiali, questo sì però onestamente non mi sentirei in alcun modo di dare dei giudizi è difficilissimo questo allora tu hai cantato però anche per Papa Francesco e per quattro presidenti degli Stati Uniti Obama, Clinton, Bush e Biden che differenza c'è tra cantare per un pubblico normale e cantare per i grandi della terra? da un punto di vista tecnico assolutamente nulla ovviamente per un cantante essere invitato in queste circostanze è un grande onore e soprattutto un attestato di stima e di affetto questo sì ma non c'è un filo di emozione in più? poi ognuno di noi è consapevole del fatto che queste autorità sono abituate ad ascoltare sempre il meglio del meglio quindi ti senti un po' sotto esame però al di là di tutto io credo che quando qualcuno ti dedica il suo tempo per venire a ascoltare la tua voce ti fa un grande regalo e un grande onore senti parliamo di Luciano Pavarotti mio grande amico e il più grande tenore del mondo in un certo momento e tu hai cantato insieme con lui? sì più di una volta mi ricordo la prima volta al Pavarotti International del 94 se non vado errato e cantammo insieme una bellissima canzone napoletana che si intitolava Notte Piscatore senti i tuoi figli Matteo e Virginia ti seguono di canto ora in genere quando i figli fanno lo stesso mestiere del padre può esserci qualche problema con i tuoi invece come va? no per ora problemi è troppo presto anche perché Matteo sta preparando il suo primo album e vedremo spero che verrà accolto favorevolmente Virginia è una bambina che va a scuola tutti i giorni alla quale è stato chiesto di aiutarci in un album di Natale molto fortunato lo ha fatto diligentemente, pazientemente e con passione però adesso fa la bambina che va a scuola senti tra il vino e l'equitazione qual è la tua passione principale? no l'equitazione senza dubbio l'equitazione è una passione che ho fin da quando avevo 7-8 anni e mio nonno poco prima di lasciarci espresse un desiderio quello di regalarmi un cavallino e quella fu la prima cosa che fece mio padre quando mio nonno ci lasciò lui corse a comprarmi un cavallo e da quella volta è amore a prima vista la maggiore soddisfazione in tanti anni ormai sono 30 anni di carriera da quando cominciasti con zucchero eh sì beh la maggiore soddisfazione da un punto di vista mediatico credo che il punto massimo sia stato il concerto a Central Park a cui parteciparono anche Brim Terfel giusto appunto ma anche Céline Dion e tanti altri grandi artisti e da un punto di vista forse professionale eh direi il metropolita senti nella tua vita tu hai avuto momenti bui e momenti luminosi facendo un bilancio come ti consideri? ma i momenti bui onestamente non ne ricordo io mi sono sempre definito una persona estremamente fortunata perché sono cresciuto in una famiglia che mi ha amato e ne ho costruita un'altra in cui mi sono sentito amato ho avuto amici che mi sono stati vicini da sempre quindi cosa posso chiedere di più alla vita? grazie Andrea grazie buon concerto per il Re d'Inghilterra grazie a voi per averci seguito adesso Amadeus grazie a voi